Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona festa. La solennità di tutti i Santi è la nostra festa, ma perché la santità di Dio ha toccato la nostra vita. I Santi non sono modellini perfetti, ma persone attraversate da Dio. I Santi sono i nostri fratelli e sorelle che hanno accolto la luce di Dio nel loro cuore e l'hanno trasmessa al mondo, ciascuno secondo la propria tonalità. La solennità di Dio A tutti auguro una buona festa nella compagnia spirituale di Santi. Per favore, non dimenticate di pregare per me. Buon prato e arrivederci! Grazie a tutti! Grazie a tutti!